Carmen Barbaracci, Assessore regionale dell'attività produttiva, Assessore Mannelli per inaugurare questo polo per cultura, ricerca e innovazione. Che cosa può significare nel contesto della Calabria una struttura di questo tipo? Intanto devo dire che con grande entusiasmo non è il primo di questi eventi a cui partecipo quindi inaugurazioni di sale che servono per la cittadinanza per far crescere il concetto di cultura prima di tutto e il fatto che tutti questi eventi si stanno realizzando nell'ambito di aree interne significa che c'è una voglia o una necessità di uscire fuori da quel acclamato isolamento che in qualche maniera scontano queste aree. È chiaro che si tratta poi di renderle operative queste sale. Un'officina della creatività, un'officina culturale deve corrispondere esattamente poi ad una richiesta della popolazione e quindi di offrire effettivamente questi percorsi culturali.